buongiorno a tutti scusatemi per il ritardo avevamo un problema come immaginate con la connessione io sono la dottoressa dalle molle dello spisa dell'us 9 e ho un primo intervento introduttivo che riguarda il coronavirus che cosa intendiamo per kobe 19 i sintomi le caratteristiche di questa pandemia che ci sta interessando gli strumenti diagnostici e quindi vi presenterò un quadro generale sulla sul coronavirus e il cobi da 19 iniziando appunto dalle definizioni da da inquadrare insomma il virus che che causa questa questa patologia allora il coronavirus sono in generale una famiglia di virus che hanno la capacità di determinare nell'uomo lo sviluppo di malattie che interessano principalmente l'apparato respiratorio da forme molto lievi come raffreddore forme molto più gravi quindi la la sarsa che avrete sentito nominare più volte che proprio una sindrome acuta respiratoria di grado severo di coronavirus ne esistono molti tipi questi virus hanno la capacità di causare malattie infettare soprattutto gli animali sono stati identificati vedete già metà degli anni sessanta e hanno anche però questi virus la capacità di fare il cosiddetto salto di specie cioè di passare dalla capacità di determinare una malattia nell'animale alla capacità di determinare una malattia nell'uomo ed è quello che è successo si ipotizza sia successo con molti coronavirus che hanno fatto questo salto di specie al momento sono sette quelli che hanno che abbiamo diciamo individuato e uno appunto è il coronavirus che sta determinando l'attuale pandemia abbiamo quindi il sars cov 2 allora sars cov 2 sta per coronavirus che determina una sindrome respiratoria acuta severa 2 perché come forse ricorderà qualcuno di voi nel 2002 2003 c'è stata una pandemia in quel caso sempre che aveva avuto inizio diciamo l'infezione nella in cina e aveva determinato appunto questo quadro di sindrome respiratoria acuta severa e poi il coronavirus che era sempre responsabile della malattia era stato identificato come sars cov 1 quindi cov 2 perché appunto viene dopo il virus che aveva determinato la pandemia del 2003 quando invece parliamo di cov 19 intendiamo la malattia causata dal coronavirus e sta appunto per coronavirus disease 19 dall'anno in cui diciamo è comparsa la malattia la malattia sapete è stata diciamo i primi pocoli di polmoni che si sono verificati a guan e poi vicina insomma e poi all'inizio diciamo di a gennaio del 2020 è stata identificata questa nuova malattia per quanto riguarda il periodo di incubazione allora innanzitutto cosa il periodo di incubazione è quel tempo che intercorre tra il momento in cui un soggetto viene a contatto con il virus e quindi sviluppa l'infezione al momento in cui si sviluppano i sintomi questo periodo di incubazione quindi in cui c'è già l'infezione ma il soggetto è ancora apparentemente non ancora disturbi varia nel caso del coronavirus tra i due e gli undici giorni fino ad un massimo di 14 giorni 14 giorni è un numero che poi si collega il periodo della quarantena la quarantena nel caso sapete l'isolamento nel caso del coronavirus è di 14 giorni proprio perché noi ci aspettiamo che un soggetto che potenzialmente infetto ma in isolamento e se sta in isolamento 14 giorni in quei 14 giorni dovrò diciamo dovranno compi comparire i sintomi se non compaiono diciamo molto probabilmente il soggetto non ha potrebbe non aver sviluppato la malattia per quanto riguarda i sintomi dicevamo che tipicamente sono sintomi diciamo che interessano l'apparato respiratorio quindi possono comparire tosse raffreddore scarnuti ci può essere la comparsa di difficoltà respiratoria ovviamente la febbre con tutti i sintomi diciamo più generali che si accompagnano alla febbre quindi la stanchezza la sudorazione i brevidi il mal di testa abbastanza diciamo caratteristici di questa malattia sono anche la perdita la diminuzione dello dell'olfatto e del gusto e diciamo il quadro vi dicevo può andare da forme molto lievi ma come sapete ci può essere anche un interessamento importante quindi una forma di interessamento importante dell'apparato respiratorio che può portare a ricovero a un ricovero in terapia intensiva quindi con un supporto diciamo alla respirazione del soggetto fino appunto alle forme più grave in cui ci può essere il decesso bisogna anche ricordare però che una quota di soggetti e questo lo stiamo vedendo di più ora che nella fase iniziale dell'epidemia una fetta diciamo di soggetti che sviluppano l'infezione non sviluppano i sintomi quindi rimangono asintomatici non si accorgono di avere l'infezione questo riguarda più frequentemente soggetti di giovane età e appunto anche i bambini i soggetti di età più avanzata tendono a presentare diciamo ad essere a maggior rischio di sviluppare una infezione con sintomi importanti sì per l'età ma soprattutto perché con l'avanzare dell'età il soggetto in genere sviluppa una serie di malattie croniche quindi può essere magari che abbia una cardiopatia abbiamo diabete e l'insieme di queste patologie con l'età avanzata ovviamente rende questi soggetti più fragili quindi più a rischio di avere un'evoluzione diciamo negativa della dei sintomi per quanto riguarda le modalità di trasmissione come si trasmette la malattia allora possiamo avere un contatto per via diretta quindi da soggetto a soggetto direttamente qui vedete un soggetto sintomatico il soggetto sintomatico è quello che più facilmente trasmette la malattia perché tossisce perché starnutisce ed è proprio attraverso l'eliminazione di queste micro goccioline di saliva o di che provengono dalla mucosa dell'apparato respiratorio in cui è contenuto il virus che diciamo avviene l'infezione perché queste goccioline si disperdono nell'aria e ovviamente se io un soggetto molto vicino a un soggetto infetto questo soggetto potrà respirare quindi entrare a contatto con le proprie mucose respiratorie direttamente con le goccioline infettarsi oppure il contatto può essere attraverso per esempio la stretta di mano quindi sappiamo che un soggetto che tossisce o avere le mani contaminate e quindi stringendo la mano un altro soggetto che poi si avrà una contaminazione della mano se questo soggetto porterà le mani al volto ci sarà il rischio anche in questo modo di trasmettere la malattia c'è anche una modalità diciamo di contagio indiretto e cioè queste goccioline si possono depositare sulle superfici e se un soggetto sano va a toccare le superfici dove ancora presente diciamo il virus e poi appunto sempre si porta vicino alle mani al viso può contagiarsi vedendo quali sono le modalità di trasmissione si capisce anche perché abbiamo adottato in questi mesi alcune misure di prevenzione quindi il distanziamento sociale ovviamente per evitare che ci sia diciamo l'esposizione a queste goccioline che possono essere emanate dal soggetto infetto abbiamo vietato la stretta di mano sappiamo che dobbiamo evitare il contatto diretto e sappiamo che dobbiamo lavarci spesso le mani ovviamente per quanto riguarda le superfici anche la disinfezione diciamo del delle superfici è una modalità che consente diciamo ovviamente di ridurre la possibilità del contagio tenere spesso pulite diciamo tutte le superfici quindi avere un'adeguata pulizia dell'ambiente che ci circonda dove operiamo quindi ho riportato la definizione di contatto stretto perché il contatto stretto di un soggetto diciamo che si rivela positivo al covi da 19 quindi che ha fatto un tampone naso faringeo che risultato positivo è un soggetto che viene messo diciamo in isolamento in isolamento fiduciario come viene identificato il contatto stretto quindi quando c'è un caso positivo come si vanno a ricostruire questi contatti stretti allora nei due giorni precedenti la diagnosi di covi da 19 o la comparsa di sintomi di quel soggetto si va a ricercare tutti quei soggetti che hanno avuto un contatto stretto con quel soggetto che significa che sono i conviventi i familiari conviventi che sono soggetti che hanno avuto si sono trovati molto vicini a quel soggetto quindi per esempio hanno parlato faccia a faccia con quel soggetto in una situazione di vicinanza quindi inferiore ai due metri quindi vedete qui almeno per 15 minuti a una distanza di meno di due metri questo è quindi senza l'utilizzo di protezioni fa rientrare il soggetto diciamo in un contatto stretto o ancora il fatto di essere stato in un ambiente chiuso sempre per almeno 15 minuti con quel soggetto a distanza minore di due metri oppure per tutte le persone che operano in un ambiente sanitario nell'assistenza diciamo ai malati anche qui aver fatto assistenza ovviamente senza aver utilizzato le adeguate protezioni qui vi ho riportato il tasso di contagiosità che viene definito con l'indicatore r con 0 di questa malattia allora il r con 0 che cos'è proprio un indicatore numerico che ci dà l'idea di della del tasso di contagiosità di una malattia infettiva quindi per esempio quindi si utilizza per tutte le malattie infettive per esempio quando questa r con 0 il valore di 1 che cosa significa che il soggetto malato alla capacità di infettare un altro soggetto sano se r con 0 e pari a 2 significa che il malato in grado di infettare o infetterà due soggetti sani quindi questo qui vedete raffigurata nell'immagine la r con la r con 0 uguale 2 c'è un soggetto infetta due soggetti sani vedete come si sviluppa rapidamente una reazione a catena per cui una r con 0 pari a 2 già un r come dire un tasso di contagiosità importante che in poco tempo può portare a diffondersi di un'epidemia quando un'epidemia è sotto controllo cioè che valore deve avere questo r con 0 per stare tranquilli e come dire aspettarsi che l'epidemia vada pian pianino risolvendosi quando la r con 0 un valore inferiore a 1 cioè che un soggetto non è in grado di contagiare un altro soggetto come cambiato questo r con 0 nel tempo perché questo r con 0 cambia nel senso che ogni microrganismo quindi coronavirus parte da un r con 0 diciamo che dipende della caratteristiche proprio del virus stesso però io posso modulare il tasso di contagiosità di una malattia andando ad agire con delle misure di prevenzione perché l'area con 0 dipende anche dalle misure che io vado ad attuare vi faccio un esempio per spiegarmi meglio alla vedete a febbraio all'inizio diciamo dell'epidemia la r con 0 del coronavirus sars cov 2 era pari a 3 quindi un valore importante con la fase del lockdown quindi misure estremamente diciamo restrittive abbiamo ottenuto un'importante riduzione di questo r con 0 quindi vedete che proprio intorno alla fine di marzo abbiamo visto proprio i primi risultati del lockdown e siamo scesi diciamo questo il valore nell'andamento in veneto a 0 5 di r con 0 ma alcune regioni italiane hanno avuto anche valori più bassi sapete che noi siamo comunque una regione che è stata interessata in modo importante da questa epidemia a partire da da metà luglio come sapete i casi si sono ripresentati via via insomma quindi sono di nuovo aumentati al momento quindi siamo in una situazione diciamo è saltato tutto ok siamo in una situazione in cui ancora diciamo siamo in una diciamo preoccupante insomma in cui abbiamo diciamo un numero di contagi che via via è salito e sta salendo come avrete sicuramente saputo da dai giornali dall'informazione l'attuale situazione in italia questi sono i dati che ho estratto diciamo una schermata che ho estratto dal sito del ministero della salute c'è anche il sito dell'azienda ulse 0 che può essere consultata e che elabora continuamente diciamo i dati dell'epidemia questo riguarda i dati in italia quindi al 10 settembre 2020 abbiamo 283 mila casi positivi 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 significa positivi al tampone naso faringeo di questi attualmente positivi 35 mila siamo intorno al 12 per cento deceduti anche intorno al 35 mila e attualmente diciamo dimessi guariti 211 mila le regioni la regione più colpita quindi per numero di casi positivi e la lombardia li vedete riportato qui sulla destra seguita da piemonte emilia romagna scusate e poi arriva appunto il veneto e l'andamento della malattia è cambiato nel tempo all'inizio diciamo la percentuale di deceduti rispetto al totale dei positivi era più alta questa percentuale si sta abbassando quindi stiamo osservando in questo momento diciamo un andamento diciamo in cui come dire la percentuale di ricoveri e di decessi rispetto al totale dei positivi si è si è ridotta in realtà nella fase iniziale avevamo anche molti riccia molti ricoveri perché avevamo molti soggetti diciamo anziani che venivano colpiti da questa malattia e i tamponi venivano fatti principalmente da soggetti sintomatici adesso che siamo usciti dalla fase diciamo iniziale di epidemia stiamo facendo insomma si stanno facendo molti tamponi anche i soggetti che non hanno sintomi quindi effettivamente la fetta diciamo di questa popolazione di positivi asintomatica diciamo che non ha sintomi importanti è andata diciamo cambiate le modalità con cui vengono somministrati i tamponi allora per quanto riguarda la diagnosi abbiamo già accennato esistono strumenti vari tipi di strumenti diagnostici il tampone naso faringeo è diciamo un test che consente di identificare la presenza del virus nella mucosa respiratoria di un soggetto e il virus viene identificato proprio dando andando a identificare il codice genetico la rna del virus a quel diciamo recentemente stato introdotto anche il tampone cosiddetto rapido che dà una risposta in dieci minuti circa questo tampone a una modalità di esecuzione simile a quella della uguale insomma quella del tampone naso faringeo però va ad identificare delle proteine di superficie del virus quindi non proprio diciamo il suo genoma e sta dimostrando diciamo una certa diciamo uno strumento un nuovo strumento diagnostico utile per evidenziare i soggetti appunto con positivi all'infezione poi abbiamo i test sierologici i docenti sono stati proprio invitati quindi molti di voi avranno fatto un test sierologico il test sierologico un test diverso che va a testare invece la presenza degli anticorpi contro il virus come si comporta il virus e come si comportano gli anticorpi nel nel tempo quando c'è l'infezione da da povide 19 qui vedete la linea blu è l'andamento diciamo del virus che vedete ci infetta il tempo zero poi replica quindi aumenta e poi nel corso della malattia quindi anche nella fase di convalescenza quindi insomma raggiunge il picco quando ci sono i sintomi poi via via scompare gli anticorpi non sono presenti fin dal primo giorno dell'infezione come il virus ma vedete abbiamo un primo tipo di anticorpi le igm che compaiono a una settimana circa dall'infezione entro 20 giorni anche scompaiono poi abbiamo lì gm che è un secondo tipo di anticorpo che compare più o meno a distanza di 15 giorni dall'infezione e poi però rimangono nel tempo non sappiamo ancora se rimangono per tutta la vita nel caso del sasco 2 però sicuramente ci danno un'immunità nel tempo una protezione nel tempo il test sierologico vi dicevo evidenzia questi anticorpi quindi a seconda del momento in cui noi facciamo un tampone un test sierologico avremo risultati diversi quindi per esempio il fatto di riscontrare solo delle igg positive può voler dire che il soggetto ha già superato la malattia quindi è ricordo di una vecchia infezione oppure potrebbero essere le ig e igg positive ma ancora siamo in una fase in cui vedete il virus è presente nella nell'organismo perché la malattia è magari nella sua fase terminale ma non il soggetto non è ancora guarito e lo stesso gli anticorpi vi dicevo potremmo trovarli negativi proprio in una fase iniziale perché abbiamo alcuni giorni dopo l'infezione in cui comunque igm e igg sono ancora negative il fatto di trovare solo le igm positive e non le igg anche questo mi dice che siamo in un momento diciamo di infezione recente quindi che è da poco che ho avuto l'infezione questa è un'immagine che fa vedere insomma come avviene la con il tampone nasofaringe prelevato la mucosa quindi sia dalle marici che dalla faringe poi il campione viene mandato in laboratorio e l'esito si sa nella in alcuni giorni sia l'esito a cosa serve il tampone nasofaringe allora il momento è lo strumento diciamo che viene utilizzato diciamo per la diagnosi certa di infezione da sars co2 e quindi anche lo strumento che viene utilizzato per la diagnosi di guarigione perché per dire che un soggetto è guarito questo soggetto non dovrà ovviamente avere più sintomi anche avere almeno due tamponi negativi a distanza di almeno effettuati a distanza di almeno 24 ore se ovviamente un tampone si evidenzia positivo in un soggetto questo fa scattare una serie di misure quindi si andranno a recuperare i cosiddetti contatti stretti di cui vi dicevo prima e poi il soggetto verrà attivato una sorveglianza del soggetto per cui verrà contattato dalla dall'igiene pubblica del servizio dell'igiene pubblica per vedere come evolve la malattia e anche per eventualmente contattare contatti avere un recuperare i contatti stretti per poi chiamarle a fare il tampone quindi perché indicato ovviamente per tutti quei soggetti sintomatici che hanno dei sintomi che valuta il medico di base che non spiega con altre possibili cause quindi se c'è un sospetto il medico di base poi fa l'indicazione diciamo e richiede l'esecuzione di un tampone ma anche soggetti asintomatici vi dicevo che hanno avuto il contatto stretto con un caso per esempio positivo sono soggetti che vengono contattati per il tampone gli operatori sanitari periodicamente vengono sottoposti a tampone e poi già da da questa estate si è iniziato anche diciamo a prevedere che ci sono varie diciamo differenze anche a seconda dei paesi da cui un soggetto entra in veneto entra in italia ma in generale i soggetti che fanno entrano nel nostro paese quindi anche nella nostra regione provengono da paesi diciamo extra unione europea vengono a devono comunicare al dipartimento di prevenzione loro arrivo e poi vengono contattati per fare il tampone il test sierologico invece come funziona abbiamo due modalità un test sierologico diciamo lento in cui si preleva un campione di sangue che viene analizzato in laboratorio è un test rapido che quello che è stato utilizzato molto spesso proprio negli screening di alcune diciamo popolazioni e quindi anche per esempio qui a verona per ma anche in altre diciamo province per lo screening per esempio del personale docente delle scuole quindi si punge un dito si raccoglie una piccola goccia di sangue e sempre attraverso diciamo l'utilizzo di un ragente insomma sia una risposta della presenza di gm gg nel giro di dieci minuti a cosa serve questo test allora il test non permette di fare una diagnosi di infezione se vi ricordate la curva che vi ho presentato diciamo non ci dice che in quel momento il soggetto all'infezione ci dice che ha gli intetti gli anticorpi quindi che è avvenuta un'infezione un esposizione al virus questi test sono utili però per valutare in una popolazione come è circolato il virus come si è diffusa eventualmente diciamo la infezione l'epidemia e quindi sono indicati sono stati utilizzati per esempio per valutare in alcune popolazioni appunto la eventuale positività dei soggetti quindi per esempio operatori ospiti delle strutture sanitarie socio sanitarie le forze dell'ordine personale diciamo i volontari impegnati in questa emergenza sanitaria sono stati scrinati coi test sierologici personale docente delle scuole stiamo anche facendo il test appunto i lavoratori stagionali agricoli per esempio che entrano in italia che stanno entrando in questo momento in italia per fare diciamo la campagna di raccolta diciamo dell'uva di questo periodo quindi diciamo vanno a studiare determinate servono per studiare determinate diciamo popolazioni come ci si comporta quando il test è positivo e negativo ovviamente il test il tampone naso faringeo positivo comporta che il soggetto vada in isolamento perché abbiamo detto fa diagnosi di infezione e fa attivare l'inchiesta epidemiologica da parte dell'asr e la sorveglianza attiva del soggetto il test negativo ovviamente esclude l'infezione quindi non fa non comporta diciamo provvedimenti per il soggetto per sierologico cosa comporta allora abbiamo detto non permette la diagnosi quindi andrà confermato quel test con il tampone naso faringeo un soggetto che risulta igm o igg positivo può aver avuto un contatto quindi recente o passato con il virus e quindi per capire se in quel momento ha ancora l'infezione in atto andrà avviato a fare il tampone naso faringeo concludo dicendovi del trattamento quindi al momento si stanno studiando terapie specifiche si sta studiando un vaccino per questa malattia ma non li abbiamo ancora disponibili quindi in questo momento i soggetti vengono trattati ovviamente in base ai simili che presentano non c'è un trattamento specifico e ovviamente siamo in attesa che si riesca diciamo a produrre un vaccino però non è ancora disponibile in chiusura mi è stato chiesto di fare due parole sui lavoratori fragili e quindi sentendo un po insieme esco un po da tutto diciamo quello che vi ho detto finora per darvi diciamo che riguardano proprio il lavoratore delle aziende quindi anche delle scuole rispetto a questa condizione di fragilità allora innanzitutto già da marzo è stato emanato un protocollo quindi questo protocollo che vedete qui citato del 24 marzo 2020 un protocollo condiviso tra il governo e le parti sociali ed è un protocollo importantissimo che ha individuato tutte quelle misure quindi sono 13 punti che spiegano in ogni punto tutta una serie di misure che è opportuno diciamo attuare nelle aziende proprio per la gestione la prevenzione dell'infezione da cove 19 nei lavoratori uno di questi punti proprio parlava del medico competente aziendale il medico competente quella figura quel medico del lavoro che viene designato da un vettore di lavoro per la sorveglianza sanitaria quindi il controllo diciamo la verifica dello stato di salute rispetto ai rischi lavorativi nel tempo allora la nomina del medico competente scatta grazie a tutti